ciao bentornati a tutti ancora un trade in profitto con l'intraday con la nostra app già ieri abbiamo fatto un gain sullo standard impulse anche oggi abbiamo rifatto un trading intraday sullo standard impulse us500 il cash time frame 15 minuti alle 9 e qualche minuto quindi all'incirca questo livello io ho già fissato il prezzo a 4.226 che abbiamo chiaramente un'ora di chiamiamolo fuso radio con la piattaforma comunque alle 9 30 9 40 circa questo livello a 4.226 è il nostro ingresso short perché short perché avevamo una chiarissima resistenza dinamica su un triplo massimo ok questo poi è stato successivo non lo vedevamo ovviamente ancora alle 9 alle 9 30 su questo triplo massimo abbiamo come cerchiamo spesso una chiara divergenza ribassista sul momento è un altrettanto chiara divergenza ribassista sul mac di sul triplo massimo poi abbiamo avuto un pattern engulfing il prezzo scende lateralizza e poi rompe questo livello supportivo pullback a 4.226 ed entriamo e entriamo short è interessante andare anche a vedere poi come su time frame superiori vi fosse vi fosse un pattern ribassista chiarissimo che andiamo subito a evidenziare perché è opportuno andare a cercare in base al time frame sul quale si lavora andare a cercare sui time frame superiori conferme ed ecco che su h1 questa era la candela che chiudeva alle 4 di quest'antina su h1 su quest'area di massimo ok quella che sulla 15 minuti era questa ok abbiamo un pattern una evening star chiarissima quindi su 15 minuti divergenze triplo massimo sui pa sui time frame superiori pattern ribassista qui anche un engulfing ma questa in stare chiarissime quindi ci ha dato ci ha dato la la possibilità di entrare di entrare short quindi siamo entrati a 4.226 ok quindi su questo livello all'incirca ok e su questo su questo punto il prezzo sembra scendere tende a risalire siamo chiaramente ancora ampiamente ampiamente protetti dalla nostra trend line che fa da resistenza o messo lo stop loss sopra il prezzo tende a risalire poi qui fa una pin ribassista poi una candela quasi diciamo che fa presagire l'inizio di una prima discesa perché questa grande l'era una open marubozzo e poi successivamente candelona ribassista e a 4.219 4.220 andiamo a prendere profitto essendo entrati a 4.226 all'incirca uno 0 13 per cento e quindi ci accontentiamo con ogni giorno di poco ma partendo come abbiamo visto sempre da una situazione chiara con livelli che debbono essere precisi e con diciamo altri indizi chiamiamoli così sui time frame superiori come abbiamo visto ad esempio su h1 che vadano a validare la nostra ipotesi e abbiamo sempre bisogno di divergenze molto molto chiare un saluto a tutti e buon trading e vi invitiamo ovviamente a scaricare la nostra app per fare entrare con noi